Ben ritrovati con la seconda edizione a tutti i nostri telespettatori del Piemonte in apertura di giornale. Ci caliamo subito nelle vesti natalizie, lo facciamo con la redazione di Torino. Buonasera e benvenuti a tutti i telespettatori. Quello del 2016 sarà un Natale all'insegna del food, dei giocattoli e del turismo per Torino e provincia. E la previsione dell'ASCOM sull'andamento delle spese dei torinesi per le festività ormai imminenti. I dettagli. Natale, per eccellenza la festa nel cuore degli italiani e dei torinesi. Un'ottima occasione turistica per la nostra città e un banco di prova per il commercio penalizzato dalla contrazione dei consumi. Questo l'ha dichiarato Mario Luisa Coppa, presidente dell'ASCOM Conf Commercio Torino e provincia. Il 2016 è stato un anno difficile per le famiglie a causa di un certo rallentamento economico e di instabilità politica. Nonostante i buoni segnali che giungono dal food e dalle presenze turistiche, permane però nelle famiglie torinesi e nella clientela un atteggiamento orientato alla prudenza, sottolinea ancora Maria Luisa Coppa. E un lieve incremento delle vendite potrebbe essere un segnale importante per la ripresa del Paese. A meno di una settimana dal Natale, lo shopping natalizio è all'insegna di un moderato ottimismo. Il food sembra essere il settore più premiato dagli acquisti e dei consumatori in occasione delle feste. Già da qualche settimana, infatti, la ristorazione segnala il tutto esaurito per il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno. Questo è ciò che emerge da una carrellata esplorativa dei commercianti torinesi sulle intenzioni d'acquisto effettuata dall'ASCOM proprio in prossimità delle feste di Natale, con bilanci ancora tutti in divenire e assolutamente provvisori. Il settore gastronomia, pastifici e pasticcerie è sicuramente tra quelli che Natale riesce sempre e mediamente a portare a casa buoni risultati. In particolare i dolci di Natale per eccellenza, panettone e pandoro, hanno di fatto registrato un aumento di vendite e prenotazioni dal 5 al 10% a seconda delle zone commerciali con un ritorno al prodotto tradizionale. Nelle pasticcerie è stabile i prezzi di panettone e pandoro classico che potranno variare tra i 22 e i 30 euro al chilogrammo. Quest'anno particolare attenzione viene riservato al pubblico vegetariano con un consistente aumento dell'offerta di prodotti, più 4%, anche se non potranno mancare le eccellenze gastronomiche del territorio. Segnali stabili in linea con lo scorso anno, con qualche segno o più, giungono anche dal settore abbigliamento. Ancora difficile la situazione nelle periferie penalizzate dai grandi centri commerciali dove si confermano i cali di vendite già registrati un anno fa. Il Natale resta sempre la festa per antonomasia dei bambini e sotto l'albero non potranno mancare i giochi elettronici e i videogame. Per quanto riguarda i libri, sia fisici che e-book, in crescita volumi e saggi che sappiano interpretare i maggiori eventi nazionali ed internazionali. Mercato in contrazione, infine, meno 3% per quanto riguarda l'i-tech, la telefonia, le tv di ultima generazione e anche la tecnologia per la casa. Ascoltare i cittadini e soprattutto le periferie, con loro capire quali sono le priorità. L'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nenosiglia, torna così a sollecitare l'amministrazione comunale sul tema delle periferie e dei migranti, passando per il caso dell'ex moi. Vediamo. Se oggi Gesù tornasse nella nostra città, troverebbe una casa, una famiglia, una parrocchia, una comunità religiosa o civile pronta ad aprirgli la porta? Se penso ai tanti senza dimora, che dormono per strada a famiglie sfrattate e rifugiati, mi verrebbe da dire che forse nemmeno oggi Gesù troverebbe il calore di una casa o di gente che con gioia apre le porte per accoglierlo. E' partito da questa considerazione l'arcivescovo di Torino, il Monsignor Cesare Nenosiglia, all'incontro con i giornalisti per gli auguri natalizi. Nenosiglia ha passato in rassegna le condizioni della città, ricordando che il 2016 non ha ancora segnato un cambio di tendenza rispetto al processo di impoverimento che ha visto colpito una larga fascia della nostra città. Senza lavoro, il primo problema conseguente è quello della casa. Grande attenzione l'arcivescovo l'ha dedicata ai profughi. La diocese di Torino, ha detto Nenosiglia, si sta adoperando perché la complicata situazione e gestione delle palazzine dell'ex MOI non diventi solo un'operazione di sgombero. Lo farà mettendo a disposizione alcuni immobili di sua proprietà, dove ricollocare almeno in parte i 1200 profughi che in primavera saranno costretti a lasciare le quattro palazzine olimpiche. Gesù è venuto a insegnarci ad essere fratelli, a trovare in tutti noi la forza per vivere la fratellanza e la comunione reciproca come valore, valore indispensabile per dare alla nostra vita un significato sempre più positivo e anche capace di affrontare i problemi che ciascuno di noi ha, ma anche per la città, per la società, per la comunità. Nessuno deve sentirsi esente da mettere a frutto i doni e le risorse che ha a vantaggio anche degli altri. Molto bene, da Torino è davvero tutto. Grazie per essere stati in nostra compagnia. A voi la linea. Noi proseguiamo con le rassicurazioni dell'assessore all'ambiente Alberto Valmaggia sulla presenza di amianto lungo i cantieri del Terzo Valico. L'assessore ci spiega anche perché è così importante per il territorio questa mastodontica opera. Alessandra De La Cà. La regione Piemonte rassicura la popolazione sul Terzo Valico Ferroviario e sull'utilità di questa grande opera infrastrutturale strategica per l'intero paese Italia poiché è collegamento sulla tratta Genova-Rotterdam e quindi con l'Europa. Ciò non vuol dire, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Alberto Valmaggia, che si debba realizzare con dei rischi ambientali. E su questo punto evidenzia come sia sotto controllo la situazione relativa ai valori di amianto nei cantieri, tutti nella norma, con l'unica eccezione di quella sulla strada provinciale 160 a Carrosio, che ha portato alla sospensione dei lavori. Come regione siamo presenti nell'osservatorio per il Terzo Valico, da un punto di vista ambientale, che è stato anche approvato un protocollo specifico sull'amianto per la possibile presenza di questo elemento durante i lavori. Un protocollo molto puntuale, molto preciso, che prevede analisi non soltanto sul materiale prelevato, ma anche sulle particelle eventualmente aerodisperse. Queste analisi sono date come incarico ad ARPA. ARPA è un soggetto istituzionale competente, preparato, che col suo laboratorio verifica questi dati. Sono stati fatti nel corso del 2016. E poi c'è la questione dei siti di Clascina Clara e Buona, sottoposti ad ordinanza di sospensione lavori da parte del Comune di Alessandria. È chiaro che collegato al Terzo Valico ci sono questi siti dove vengono collocati i materiali estratti per la costruzione del tunnel. Queste cave anch'esse sono monitorate sia attraverso le particelle aeree, sia attraverso il materiale che viene portato in cava, in discarica, ma anche attraverso dei piezzometri che verificano e quindi anche sui siti destinati ad accogliere questo materiale del cantiere c'è il massimo di attenzione e il massimo di controllo. L'amministrazione comunale di Novi Ligure torna sul problema dei questuanti e dei parcheggiatori abusivi in città, ma anche sulla grave piaga della ludopatia. Enrico Mariano. Durante l'ultimo consiglio comunale di Novi Ligure, il sindaco Rocchino Muliere, in merito alla petizione su questuanti e parcheggiatori abusivi presentata dal Comitato Cittadino Occhi sulla città, ha affermato che è un problema da non sottovalutare e che già prima di ricevere le firme raccolte dal comitato, ha dato mandato al comandante della Polizia Municipale di intervenire. Non è però stata necessaria nessuna ordinanza perché, ha proseguito il sindaco, il regolamento di Polizia Urbana a Novi vieta espressamente l'acquestua nelle strade pubbliche in forma petulante e molesta. In questi mesi, grazie anche alla collaborazione con Carabinieri e Guardia di Finanza, in città sono state identificate 53 persone, elevati 31 verbali, e sono state nove le richieste alla prefettura per l'emissione di provvedimenti di allontanamento di persone straniere. Certo, ha voluto sottolineare Muliere, non è facile debellare questo fenomeno, peraltro diffuso in tante altre città, ma l'impegno della Giunta, ha concluso il primo cittadino, è quello di continuare ad agire in questa direzione. Il Comitato Occhi sulla città ora sta valutando se sussistono le condizioni per promuovere un'altra raccolta firme, questa volta per chiedere di frenare e regolamentare l'apertura delle sale slot in città. Tema molto caro alla Giunta e al Sindaco, che già quando sedeva sui banchi del Consiglio regionale, si era mosso attivamente per combattere la grave piaga della ludopatia. È intenzione dell'amministrazione Muliere affrontare il tema della sicurezza sociale indagando ogni aspetto che possa metterla a repentaglio, tra questi il più subdolo, il gioco d'azzardo. Quest'anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria farà trovare due regali sotto l'albero. Il primo, il volume estrenna sul broletto di Palatium Vetus e poi un pulmino nuovo donato all'Associazione Italiana contro le leucemie. Sentiamo Franco Capone. Un pulmino nuovo, un monovolume da cinque posti fornito di un ampio bagagliaio, un dono non solo utile ma necessario per il servizio trasporto dei malati ematologici che la Fondazione e i Lions Club di Alessandria hanno voluto donare all'Associazione Italiana contro le leucemie. Un mezzo necessario perché il vecchio pulmino si è fermato per sempre dopo aver effettuato 480 servizi trasportando centinaia di pazienti che dalla loro abitazione venivano accompagnati ai reparti di ematologia dell'azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio di Alessandria per le cure in dei hospital. Da alcuni anni la Fondazione, ha detto il presidente Pierangelo Taverna, ha indirizzato la maggior parte delle proprie risorse a sociale con un occhio sempre attento verso chi soffre e che meritano particolare attenzione. Dopo la benedizione impartita da Monsignor Giovanni Torrigia e le loro appoggio, a nome dei presidenti dell'Ions Club ha detto che si tratta di un servizio altamente meritorio nei confronti di tante persone meno fortunate di noi e questo dono ha un valore enorme, umano e sociale. Il secondo dono della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è il volume Palatimo Betos, in broletto ritrovato nel cuore di Alessandria. Il volume è stato curato dalla professoressa Anna Marotta del Politecnico di Torino. Nel tempo, in realtà, da alcune cartografie e da alcuni segni nel costruito era prevedibile ed era riconoscibile questo broletto, cioè era presente ma nessuno lo vedeva perché nessuno ne conosceva la storia e la realtà e quindi se tu una cosa non la conosci, non la riconosci e non la vedi. Dopo il saluto del prefetto di Alessandria, Romilda Tafuri, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Perangelo Taverna, ha detto che Palatimo Betos, la nostra sede, rappresenta il coronamento delle complesse operazioni di restauro e di valorizzazione che hanno restituita alla città uno dei pulchi principali della storia architettonica e strutturale del Piemonte. Concerto di Natale della Corale Novese, domani sera nell'Insigne Chiesa della Collegiata di Novi, a partire dalle 21, gli interpreti del sudalizio musicale che festeggia i 40 anni di attività sul territorio si esiberanno nell'oratorio di Natale di Saint-Saëns, uno dei più grandi compositori francesi, dirigerà il coro e l'orchestra al maestro Crisse Iuliano. Bene, vi lascio tra poco alla pagina sportiva, in primo piano le luci dei grigi, vale a dire dell'Alessandria Calcio, poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie per averci seguito, arrivederci.